Nelle primissime ore di ieri 9 aprile i carabinieri di Petiglia Policastro e di Ciro Marina hanno arrestato per furto aggravato e riciclaggio in concorso tre persone. Si tratta di un carrozziere di Petiglia di 53 anni BS, un 33enne disoccupato catanese ma residente a Cotronei FSI ed una donna polacca di 44 anni residente a Cacuri MME. Nella serata di venerdì scorso intorno alle 22 una pattuglia della radia mobile di Ciro stava svolgendo un consueto servizio per l'ustrativo sul territorio. È stata avvisata dalla centrale operativa che il proprietario di una Fiat Panda aveva subito il furto della sua auto da parte di due malviventi. La vittima è anche riuscita a fornire delle indicazioni che si sono rivelate fondamentali per ricostruire il tragitto dei malfattori. Quest'ultimi difatti dopo il furto della vettura avvenuto a Ciro Marina si sono dapprima spostati in direzione di Cotone attraversando la statale 106 per poi abbandonare il mezzo rubato e salire su una Fiat Punto risultata essere in uso al carrozziere Petilino ma nella circostanza condotta dalla donna polacca. A bordo della Punto dunque hanno cercato di sparire imbolcando la statale 107 in direzione Cosenza e raggiungendo la località Campo Denaro di Caccuri dove sono stati bloccati dalla pattuglia dei carabinieri di Petila Policastro che ha agito in stretto coordinamento con i colleghi di Ciro. Grazie ai successivi accertamenti condotti dai militari si è arrivati a ritrovare così nell'autovettura adoperata per la fuga numerosi strumenti di effrazione e due centraline elettroniche per la codificazione delle autovetture. Inoltre in un garage dell'abitazione della Polacca una Fiat Punto nera di provenienza illecita, alcune targhe automobilistiche riferite a una sua precedente immatricolazione e un'ulteriore centralina per la codificazione dentro l'officina del 33enne. Poi vi erano altre sette autovetture per lo più Fiat sulle quali sono ancora in corso approfonditi accertamenti per stabilirne la loro provenienza. Al termine degli accertamenti di diritto e tre sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.